Il progetto Intense è un progetto interregionale trasportaliero Italia e Francia che cerca di unire le realtà del Mediterraneo sulle piste ciclabili e sulle piste pedonali. In un grande progetto di unitarietà che partendo dalla Sardegna alla Corsica, arrivando in Toscana, passando per Sarzana, per l'Uni, per Sarzana e continuare per la Liguria, nel sentiero Liguria, unisce alla Francia, a Nizza e alla parte della Costa Azzurra. Un grande progetto di sviluppo turistico sostenibile e di mobilità sostenibile, importante e significativo. Noi siamo un punto di unione, un trade union, perché noi colleghiamo la parte della Toscana con l'Uni alla parte della Liguria. Naturalmente tutto ciò per valorizzare il peso, sia naturale, sia biologico, sia culturale che storico, di un territorio significativo e importante come quello del Parco di Monte Marcello Magravara. Abbiamo come obiettivo di progetto lo studio di fattibilità di questo itinerario, ma abbiamo anche il budget per la progettazione e la realizzazione di alcuni tratti. Oltre alla parte infrastrutturale, nell'ambito del progetto viene fatta anche un'azione di valorizzazione dei territori attraversati da questo itinerario e la manifestazione di oggi è uno di questi. È un progetto molto ambizioso perché ha ancora tra i suoi obiettivi un piano di gestione e di valorizzazione congiunto dell'itinerario. Questo progetto si inserisce in quello che è un percorso di presa di coscienza da parte in particolare delle pubbliche amministrazioni locali, ma anche degli operatori turistici, cioè delle piccole e medie imprese che lavorano nel settore del turismo, che vedono nel turismo sostenibile, in particolare nel turismo legato alla ciclabilità e all'escursionismo a piedi, un'opportunità di sviluppo del territorio anche per creare nuovi posti di lavoro.